E siate qui per caso, o perché ve l'ha detto un vostro amico, benvenuti al canale di Saint Seiya Vintage Legend Italia, la community dedicata ai modellini vintage dei cavalieri dello zodiaco più grande che ci sia. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un grande gruppo, una grande passione, buon divertimento e passate parola. Ero al parco e cercavo di far addormentare Andromeda, e ora dove sono? Ma che punti aguzzi, che posto è mai questo? Ciao Fenix! E tu chi sei? Sono Pandora, e devo prendere Andromeda. Ehi aspetta, lui è mio fratello, non te lo darò mai! Fenix, daglielo, eviterai cambio pannolini, pappette, notte insonni, dovrai lavorare a nero perché sei minorenne, e devi pure pagare la babysitter per permetterti di crescere Andromeda. Andromeda! In effetti... Ok, ti darò Andromeda, ma prima un quiz sui cavalieri, se lo superi è tuo! Ok! Chi è lui? Goku! No, e lui? Vegeta! E lui? Junior! No! Ma dai! Ultima chance! E lui? Bulma! Ma non è che per caso sei fan di Dragon Ball invece dei cavalieri? Nooo! Ma che dici? Ehm... Sei sicura? E va bene! Kurumada, mandami all'isola della regina nera, va bene tutto, ma non questo inferno, in mezzo a questi matti. Ciao a tutti, oggi ho un gradito ospite, chi sarà mai? Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco, conosciuto su Facebook con il nome di Frank Tett. Quale frequentatissimo gruppo hai fondato e porti avanti? Saint Seiya Vintage Legend Italia. E che libro hai scritto? L'universo vintage su Saint Seiya, dedicato appunto ai modellini storici sui cavalieri dello Zodiano. Da quanto tempo sei un fan dei cavalieri? Ricordo che i cavalieri entrarono subito nel mio cuore, io faccio parte della vecchia guardia, mettiamola così. così come i modellini che furono messi in commercio in quel periodo. Purtroppo da bambino io ne ricevette veramente poco, però diciamo che ad oggi mi sono preso la mia personale rivincita. E questo tuo libro a chi è rivolto? Questo libro è nato non solo per i collezionisti, ma appunto per i nostalgici, per tutti coloro che amano i cavalieri dello Zodiano, ma soprattutto che hanno vissuto tutte le annate dedicate a questi modellini. 1990, 2000, 2001, 2007, 2001. Cos'altro hai da aggiungere? Iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, abbiamo anche Instagram, YouTube, pagina Facebook e ora do la parola, ovviamente, al mitico e insostituibile Ivo de Pan. No, meglio dare la parola a Pegasus. L'universo vintage su Saint Seiya di Francesco Catarcio, quello che gli amici chiamano Frank Cat. L'universo vintage su Saint Seiya è disponibile su Amazon, You Can Print, Feltrinelli, Mondadori e in fumetteria, libreria e cartolibreria. Unitevi a Saint Seiya Vintage Legend Italia, la community più grande al mondo dedicata ai modellini vintage dei cavalieri dello Zodiaco. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un grande gruppo, una grande passione.